Perché o si ha la fortuna in famiglia di avere una libreria e una biblioteca ben fornita, oppure i ragazzi non imparano a leggere. Io insegno in carcere e ho dei ragazzi giovanissimi, ho ragazzi di 21 anni, ho ragazzi di 25 anni, 30 anni. Perché nella loro vita questi ragazzi non hanno letto un libro. Questa è la verità drammatica e anche quelli che sono più avanti nell'età, perché ho anche quelli di 50 e di 60 anni, se io vado a fare un'analisi con loro, loro mi dicono non ho letto un libro. Poi ci sono anche le eccezioni, ma sono eccezioni. Questa è la verità. E allora diciamo che noi stiamo smantellando la scuola, ma stiamo smantellando una società. Una società in cui ci siano finalmente individui consapevoli, critici, capaci di analizzarla questa realtà. Diciamo che è così, diciamo che si sta immiserendo, questa è la scuola miseria. Noi prima la chiamavamo scuola-azienda, ma è l'azienda della miseria. Queste vorrebbero condurre questa scuola con metodi aziendalistici, vista l'autonomia scolastica e vista anche il decreto a prea-chizzoni, che dovrebbero essere l'una politicamente l'opposta dell'altra, che stanno facendo l'unità d'Italia sull'immiserimento, la chiusura della scuola. L'eliminazione della pratica democratica interna alla scuola, in cui il collegio docenti diventa un luogo in cui si ratificano decisioni prese dagli esperti del mondo esterno, delle aziende che dettano la legge su quello che gli insegnanti devono fare, perché si mettono in scacco totale gli insegnanti, che sono semplicemente dei ripetitori automatici di cose dette da altri. E questa non è scuola, questa non è la formazione e l'educazione dei cittadini che noi vogliamo, e dovremmo avere di cui le biblioteche sono un elemento portante, perché comincia da qui. E' per questo che noi, Cobas, dall'inizio stiamo facendo questa battaglia con i colleghi cosiddetti inidonei, perché è simbolico, è dal piccolo che si capisce quello che vogliono fare, perché questa è una battaglia di cività, è una battaglia per la cultura, è una battaglia perché ci sono sicuramente docenti malati che vanno tutelati, ma questi docenti malati non è che stanno a casa a fare niente, domandate a tutti ieri fino a che ore è rimasta a scuola, erano le 8, era appena uscita una inidonea che lavora 36 ore e in realtà ne lavora 50 di ore. Quindi questi colleghi non sono colleghi che stanno a casa e rubano uno stipendio che comunque in quanto malati in ogni caso gli spetterebbe. Sono colleghi e colleghe che sono occupati in quelli che sono gli elementi centrali della vita scolastica, e cioè la biblioteca o il laboratorio didattico come supporto alla didattica. Ma ieri nel mio collegio, a proposito di supporto alla didattica, perché io non sono distaccata, vado a scuola, oggi ho il permesso per il convegno, altrimenti avrei fatto 5 ore di lezione nel pomeriggio naturalmente, si parlava di funzioni strumentali. Una collega, giustamente, e tutti quanti, io voglio fare funzioni strumentali, tutti quanti con questi soldi, già abbiamo fatto una lotta per farli dividere, non farli mettere nelle mani di alcune funzioni strumentali, ma che sia la più diffusa possibile, anche perché la funzione strumentale dà diritto ad un credito quando vai a fare il concorso per preside. E allora sto diritto del di tutti, perché non è che può essere solo di chi dice il dirigente, cosa che spesso accade. Però lì, dopo tutto questo palazzo, una collega, giustamente, zitta zitta dice, scusate, preside, ma mi può dire quant'è l'ammontare del finanziamento? E la preside dice, ma non c'è il finanziamento. Allora, non hanno detto non facciamo più niente, perché, insomma, la figura, io glielo dico da prima, prima di sapere la cifra, guardate che forse è il caso che voi non collaboriate, attuiamo la pratica del non collaborazionismo in una scuola che sta distruggendo se stessa, ma per dire che comunque le cifre non sono state comunicate. Quelle cifre che noi sostenevamo dovrebbero essere utilizzate per risolvere la problematica degli idonei ad altri compiti. Vi ricordate la proposta che poi il COPDUS ha ripreso da quell'assemblea e l'ha reso emendamento? E noi chiedevamo questo. E la risposta delle organizzazioni sindacali è stata no, perché alla scuola hanno già tagliato troppo e quindi non le possiamo utilizzare, quindi facendoci due conti, siccome la scuola ha già pagato, infatti sta continuando a pagare, qual è il problema che io devo mandare al macero? Gli ata precari, i docenti di idonei, la C999, il C555 e tutti quelli che vengono dietro, perché questo lo diciamo agli altri colleghi, che bene che capiscano, che questo sarà fatto a tutti. è stato trovato il meccanismo attraverso il quale se oggi sono preoccupati precariata, domani dovranno essere preoccupati tutti, perché precariata saranno stati decimati e non esisteranno più, e perché il fabbisogno dell'amministrazione sarà coperta con tutti i sovrannumerari, perché se io oggi, ritenendogli in idonei dei sovrannumerari, che stanno mangiando a sbato, invece lavorano più di tutti quanti gli altri, peraltro, e li devo spostare lì, allora da oggi in poi che cosa accadrà? Che il primo sovrannumerario, temporaneo, sovrannumerario, non si sa se è per sempre o per un anno, beh per quest'anno, anche comunque ti prendo e ti sposto, e vai a fare l'amministrativo, se non va a fare il tecnico, se no, se non c'hai manco troppi idoli, vai a fare il bidello, perché che problema c'è? Non c'è problema su questo. E quindi ha trovato un elemento attraverso il quale la scuola con un'attività di cannibalizzazione, noi lo diciamo da anni, ci stanno facendo diventare cannibali, perché ognuno di noi si sistema a danno di quest'altro, mangiando dei pezzi di categoria, un po' alla volta stiamo mangiando, li stanno rodendo, i primi sono i precari ovviamente, che ci rimettono, perché i primi ad essere buttati fuori, sono ovviamente coloro che non sono stati soltanto immessi in ruolo, ma sfruttati, e questo infatti lo riconosce anche la comunità europea, per più di quei tre anni che sono quelli utili per dire vabbè sei precario, non puoi pretendere nulla, ma dopo tre anni un precario non è più semplicemente precario, è evidentemente un'unità aggiunta di cui si ha bisogno, pur volendo mantenere i lavoratori e le lavoratrici in uno stato di precarietà, ma in relazione a un bisogno specifico della scuola. Ora, noi siamo qui da un anno, l'abbiamo fatto tutto, dobbiamo continuare a fare qualche cosa, intanto vorrei sapere se per caso qualcuno, Ditti, qualcuno è andato a vedere, se ci dicevano, non ci sono, dove sono? Non c'è Chiapetto? Non c'è Cosontino? Non c'è Labano? Non c'è De Angelis? Non c'è Maida? Ma gli posso fare l'elenco, che tutti mancano, perché allora vogliamo la giustificazione, hanno fatto sciopero con la CGL, può darsi, già sarebbe meritoria come cosa, però noi li elenchiamo, diciamo, vogliamo la giustificazione dell'assenza, perché noi siamo assenti giustificati, perché abbiamo preso un giorno per il convegno e siamo qui, altrimenti ci saremmo dovuti giustificare, perché non ci sono? Come mai non c'è nessuno? Eppure ho chiesto da lunedì l'incontro e so anche, quindi non ci dicano cose che non sono vere, e so anche che ci volevano mandare, che la segreteria di Chiapetta aveva già demandato qualcun altro a venire, il dirigente dell'ufficio quinto degli ATA, il che è già indicativo, ma non fa niente, noi non abbiamo problemi, incontriamo anche il dirigente che si occupa del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per carità, però lo vogliamo incontrare, vogliamo sapere qual è realmente l'ultimissima bozza che è stata preparata, quella firmata da Profumo, che gira, però noi la vorremmo da loro, vorremmo acquisire quella definitiva, per sapere realmente le cose come stanno, e diciamo subito che noi non molliamo, non è che loro perché fanno questo sgarro che non ci vogliono, ogni volta dobbiamo stare qui, dobbiamo stare qui, uno lo riceve, no, non mi vogliono, non lo riceve, no, la cilgera ha detto, no, la cilgera non mi vuole, no, lo snasta ha detto, che farei schifo, no, voi non siete, non potete entrare, puzzate, no, non siete buoni, non vi vogliamo vedere, poi ci devono vedere, perché in realtà noi abbiamo il diritto che si prendono i lavoratori e le lavoratrici che stanno in piazza, perché voglio dire, se qui c'è una rappresentanza di quella categoria, quella categoria deve essere ricevuta, non c'è niente da fare e ci devono dire a che punto sono e si devono anche un po' vergognare per aver scritto quel testo, perché comunque loro lo hanno scritto, non è che qui c'è qualcuno che non si debba assumere la responsabilità di quello che fa, noi lo sappiamo, essere funzionari, dirigenti e quant'altro significa assumersi delle responsabilità rispetto agli atti che si scrivono e si firmano e loro ci devono dire perché credono che questo si possa fare, perché sanno benissimo che questo non si può fare, che tecnicamente non vi potete spostare. Dunque, noi intanto diciamo che non molliamo, quindi stiamo mettendo in campo anche qualche azione un po' più divertente e la prima cosa che mi ha detto Giorgio